Parte di slancio la stagione 2023 di football americano dei Ranocchi Angels di Pesaro. Nella domenica di apertura del campionato, sul terreno amico di Viare Spighi, gli Angels battono con un secco 32-6 i Doves, squadra bolognese additata dagli addetti ai lavori come la favorita del girone. Almeno sulla carta, perché poi alla prova del campo la squadra di coach Angeloni ha esordito in modo spettacolare vincendo la prima di campionato con un punteggio netto in cui i sei punti dei Doves si materializzano solo a 20 minuti dalla fine. Gli Angels invece si dimostrano squadra più coesa, confezionando un promettente inizio per il football americano all'indomani del pieno di entusiasmo già registrato sabato alla presentazione della stagione al Café de Paris. Obiettivi sempre più audaci e la speranza che questo sport susciti l'interesse dei giovani per un ricambio generazionale dalla vecchia guardia. Inauguriamo la 17esima stagione degli Angels, quindi il football americano a peso resiste, con tante difficoltà, stiamo andando avanti. Io e Alessandro Angeloni da 17 anni che gestiamo questa squadra, ci troviamo sempre spazi, perché chiaramente non siamo dei professionisti, ma rendiamo questa squadra come dei professionisti. Beh, l'obiettivo, come dice Alessandro Angeloni, che è anche il capo allenatore, è divertirsi, far crescere sempre di far il gruppo. È un gruppo che è coeso, che va da un Filippo Pier Maria, che ha 48 anni, che sarà l'ultima stagione per lui, il football americano limita l'età, agli ultimi arrivati, che sono di 18 anni, che magari devono imparare a giocare al football americano. Quindi cercare di far giocare tutti, divertirsi, però io dico sempre che vorrei vincere. Quindi di conseguenza vediamo un attimo lo scontro come sarà, però sicuramente sarà una cosa bella, perché tra gli allenamenti al freddo, a meno due, a meno tre, il fatto che sono tutti qua e ci vogliamo divertire è importante. Posso godermi finalmente l'ultima mia stagione, avevo deciso di smettere qualche anno fa per problemi fisici, dopo un po' l'amore per lo sport, un po' Frank aveva bisogno di giocatori, ho comunque continuato a giocare, stanno che l'ultimo, ho detto stanno gioco. E sì, c'è un amore per questo sport che è difficile da spiegare, perché comunque sono 40 anni, 30 anni scusa, che lo pratico, quindi sì, sì, eravamo bambini, mi ricordo che Frank mi portava col pulmino, io non avevo neanche la patente, ed ero un 17enne impaurito piccolino, e quindi sono queste cose qui che mi hanno segnato e mi hanno dato la forza per continuare a fare anche quest'ultimo anno. Ultimamente stiamo avendo ottimi giocatori stranieri, soprattutto americani, che ci stanno comunque facendo crescere, allenandosi con giocatori forti, tu cresci di conseguenza. Sì, quando ho iniziato io era un pochettino più fisico il gioco, meno spettacolare, perché comunque la tecnologia era diversa, quindi era molto più incentrato sulle botte, e adesso invece molto più sullo spettacolo, quindi molto giocare, molto divertente adesso vederlo e giocarlo. Qualche anno che sono a Chiozza, purtroppo, perché comunque facciamo fatica anche a trovare giovani che hanno voglia di iniziare questo sport, e questo è un problema per noi, perché appunto se devo giocare io, che ho ancora 48 anni, è un problema, anche se mi diverto, però avrei voluto lasciare un po' prima. La squadra è formata da tanti ottimi giocatori e qualche nuovo innesto, quindi il nostro scopo è quello di comunque portare avanti questo movimento e fare crescere dei giochitori nuovi. Chiaramente non siamo tanti, quindi tutti avranno l'occasione di giocare, e ovviamente dobbiamo cercare anche di vincere, e penso che i play-off possano essere un obiettivo ragionevole. Poi dopo i play-off, una volta arrivati, può succedere di tutto, quindi noi abbiamo fiducia. Chiaramente avendo una panchina non troppo lunga dobbiamo cercare di preservare le forze, però io sono fiducioso perché vedo una grande partecipazione dei ragazzi, un grande entusiasmo, e questo ci sono stati anni in cui era un po' più un problema. Quest'anno allenatori tutti italiani, anche giovani, allenatori alle prime esperienze, però che hanno un forte legame con i ragazzi, e questo ci aiuta ad avere un gruppo veramente unito e compatto. Abbiamo degli allenatori e dei due o tre giocatori che vengono dalla vecchia unione che avevamo fatto nel 2017 con Forlì, UTA, quindi un ricordo sicuramente indelebile di quei campionati di Serie A con gli americani, in cui ci siamo divertiti, però è anche il fatto che loro ritornano qui perché sicuramente Pesaro si sta bene e Pesaro offre la possibilità di giocare a football americano. Dopo la vittoria ad esordio, il prossimo appuntamento è per domenica 26 marzo quando gli Angels combatteranno ancora in casa contro i Braves, altra formazione bolognese.